Per diventare squadra, per diventare affiettati, per diventare un gruppo vincente non ci vogliono solo 4-5 risultati importanti di file inizialmente, ma ci vuole una striscia di mesi per far capire che questa squadra realmente ha una vera identità, per far crescere in tutti l'autostima e per poter raggiungere qualche traguardo prestigioso. Invece probabilmente inizialmente abbiamo peccato un po' di presunzione, tutti, io per primo.